L'Immacolata, radice dell'Eucarestia di Padre Serafino Maria Lanzetta Ave Maria piena di grazia, Luca 1, 28 Queste parole risuonano sempre così dolci nella mente e sulle labbra dei cristiani. Significa rievocare il mistero centrale della vita cristiana, quel fiat che all'unisono col fiat originario della creazione ha ricreato il mondo. Due parole si incontrano, due persone dialogano, il padre e la madre. Il padre pronuncia la sua parola eterna, il figlio. La madre la sua parola temporale che le fa cogliere il figlio eterno nel suo grembo. Quel Dio che ha fatto tutto con la sua parola ora si incarna nel grembo purissimo di Maria. Il verbo si fece carne, Giovanni 1, 14 Si fece carne per mezzo di Maria e per mezzo di Maria venne ad abitare in mezzo a noi o letteralmente fece la sua tenda tra noi. L'Immacolata allora è beata per aver portato in grembo il figlio dell'Eterno Padre per aver offerto, scrisse San Giovanni Paolo II nella sua ultima enciclica Ecclesia d'Eucaristia, il suo grembo virginale per l'incarnazione del verbo di Dio. Numero 55 Di qui capiamo la centralità di Maria, nostra madre, nella vita cristiana. Lei si colloca al centro del mistero della salvezza. Il Dio nella sua provvidenza chiede il suo consenso per realizzare la sua opera somma, l'incarnazione del figlio. Per tale ragione la madre è nel cuore stesso del mistero perché è il cuore stesso di Cristo, è sua madre. L'Immacolata diventa perciò la radice, la fonte del mistero e della grazia. Tutto avrà come origine lei, ragione d'essere lei, possibilità stessa di essere da lei, perché è lei che, dicendo il suo Fiat, ha inaugurato la nuova ed eterna alleanza. Questo legame intrinseco tra la madre e i misteri, in modo principale i sacramenti della vita cristiana, rifugge di una luce vivissima nel sacramento dell'Eucaristia. Infatti dice il Papa L'Eucaristia, mentre rinvia la passione alla risurrezione, si pone al tempo stesso in continuità con l'incarnazione. Maria concepì all'annunciazione del figlio divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che, in qualche misura, si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve nel segno del pane e del vino il corpo e il sangue del Signore. L'Eucaristia è il sacramento del mistero pasquale del figlio di Dio. Nell'Eucaristia viene ripresentata la passione morte. Ecco il valore sacrificale dell'Eucaristia, così sottolineato nell'Ecclesia d'Eucaristia, che il solo termine sacrificio ricorre 61 volte, e risurrezione del Signore, Gesù nell'Eucaristia, e pane della vita, Giovanni 6,48, perché è risorto, è il vivente, Apocalisse 1,18. Ma se l'Eucaristia è del mistero pasquale, l'annuncio e l'attualizzazione salvifica, essa è altresì il prolungamento nel tempo del mistero dell'incarnazione, senza il quale non ci sarebbe neppure la Pasqua del Signore. Allora, l'Eucaristia, possiamo dire, è l'incarnazione del Signore che si prolunga visibilmente, sebbene in modo velato, sotto i segni sacramentali del pane e del vino, trasformati in corpo e sangue. Quel corpo e quel sangue che fanno l'Eucaristia sono il corpo e il sangue che Maria ha dato a Gesù. Caro Cristi, caro Maria, dice Sant'Agostino, ovvero, la carne di Cristo è la carne di Maria. Ecco allora perché Papa Giovanni Paolo II, rivolgendosi a Maria, la definisce donna eucaristica, che ha vissuto il mistero dell'Eucaristia nel suo stesso farsi. Se l'incarnazione segna la possibilità dell'Eucaristia, la maternità virginale di Maria nella radice e lo sviluppo. Quel pane e quel vino consacrati che noi adoriamo sono il frutto del grembo benedetto di Maria, perché sono il tutto il mio Dio, come canta Sant'Omaso d'Aquino nell'inno Adoro te devote, il mio Dio che ha preso l'umanità da Maria, ciò che propriamente costituisce la novità eucaristica non è tanto il fatto che Dio diventa pane, ma che Dio diventa uomo per diventare pane. Se Dio non fosse diventato uomo, non sarebbe neppur diventato pane, in quanto il pane non avrebbe potuto significare tutta la pienezza del nutrimento, prescindendo dal legame con l'umanità di Cristo, visibile, palpabile, ciò che abbiamo udito, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, si è fatto carne, per farsi pane in Maria. L'Immacolata ha concepito nella realtà fisica del suo grembo quella santissima umanità di Cristo presente insieme con la divinità nell'eucaristia. Perché madre di Cristo, dunque, l'Immacolata è, di conseguenza, madre dell'eucaristia. Nel suo seno, col suo latte virginale, ha impastato, quale bella agnella, le carni immacolate dell'agnello divino, preparando in sé il mistero eucaristico. Parafrasando le parole del prologo di San Giovanni con tutta la Chiesa, esclamiamo Il verbo si fece pane e venne ad abitare in mezzo a noi per mezzo di Maria. Alle parole di saluto, rivoltali dall'angelo, faranno ecco le nostre parole Ave Maria, madre che ci doni l'eucaristia. Grazie a tutti.